buongiorno a tutti 7 del mattino e 6 minuti di oggi venerdì primo dicembre buon dicembre a tutti buon dicembre a tutti e buongiorno a tutti ascoltatori di crystal radio primo giorno del calendario dell'avvento oggi l'avete comprato ve l'hanno regalato ancora spacchettarlo come non dire una marca ma di cos'è cioccolatini ma perché sai ormai c'è di tutto sì ci sono anche delle note catene di supermercati che fanno il calendario dell'avvento particolare ci sono con anche i giochini quelli particolari per diventersi la sera ci sono quelli lì ci sono quelli con il cibo ci sono quelli con i pupazzetti ci sono quelli con i giocattoli ci sono quelli con le canzoni c'è un po di tutto c'è sì sì ci sono quelli digitali c'è quello c'è quello con i panini di una nota una marca di fast food c'è anche un calendario dell'avvento delle birre che costa lì è pesantissimo chiaramente anzi faccio faccio subito chiedo scusa subito oggi dopo i compleanni da fare gli auguri voglio fare gli auguri subito al mio carissimo amico lele auguri lele che anche quest'anno non riceverà il calendario dell'avvento delle birre ma tutti gli anni ci provo proprio arrivo tardi sono già esauriti sono già esauriti sono tanti pazzesco c'è questo scomodissimo anche quest'anno mi spiace prima o poi ce la farò prima o poi vorrei fargli questo regalo così anche perché appunto inizia col suo compleanno quindi va bene poi c'è altri compleanni ma li li festeggiamo dopo piano piano va bene piano 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 sottovoce come piace a noi va bene ti piace anche giovanotti anche giovanotti sottobanno no no qui non è molto sottovoce perché questo è il boom uno studente no sei uno di quelli che studiano a milano sei in sede non sei un fuorisede in sede all'università degli studi di milano volgarmente chiamata statale volgamente il logo è la statale col palomo mi chiamata noi cosa sai che c'è sempre un po' la sfida dice università degli studi di milano c'è anche quell'altra perché l'università degli studi di milano bicocca si chiama così però la grande medaglia la danno a noi per il centenario il 7 dicembre ricordiamo pensate come è caduto in basso in questi centi anni ha fatto laureare anche masieri pensate molti di quelli che sono passati di qua tantissimi tantissimi infatti ci sarebbe da ridire sul sistema scolastico italiano no non è vero anzi ci sarebbe da ridire tanto ma poi come dico sempre la miglio gioventù passa di qua ricordiamo che il 7 appunto quando verranno consegnati le civiche benemerenze le medaglie gli ambrogini d'oro che adesso si dividono in tre quattro categorie tipo gli oscar ci sarà appunto anche la grande medaglia e basta mi pare o al valore no la grande medaglia è una valore che è fatta la guerra no no la grande medaglia la grande medaglia il valore è sicuramente un grande valore quello che la statale porta alla città ma sappiamo anche che appunto sono tante le università milano ricordiamo sempre milano la città più universitaria dal punto di vista numerico d'Italia come numero di studenti come numero di facoltà ma spesso troppo poco universitaria per quello che riguarda servizi e aiuto a voi giovani che volete alle menti alla classe dirigente del futuro lungi da me difendere quel tipo di video che vanno su tiktok quanto paghi la tua stanza e quei video verticali in cui la gente va a dire quanto paghi la tua stanza eccetera però mettete a confronto solamente una roba del genere che viene fatta a Milano una roba del genere che viene fatta a Bologna che è la città universitaria e per universitari per eccellenza e si capisce subito che c'è un problema nella nostra città where is the problem è qua è qua è tutto qua comunque invece un altro problema come diceva Giorgio Stecchino è il traffico e quindi andiamo ti manca questo pezzo strano sono stati questi film no il piede l'ho visto però non me lo ricordo Palermo c'è un problema il traffico diceva vabbè comunque Milano invece ce l'hai come il traffico il problema del traffico ma lo andiamo a scoprire e a sconvolgere insieme a Luce Verde Travis Scott Bad Bunny and the Weekend con K-pop ti piace il K-pop? K-pop è il titolo anche di un'altra decente no è sempre questa credo no no anche un'altra te lo giuro ma perché adesso? vabbè dopo cerchiamo comunque sfida sfida comunque oltre al compleanno di Lele di Lele e anche il compleanno di la mia amica Chiara anche la mia amica Chiara quindi auguri alla signora Chiara e poi tanti auguri al mio amico al tuo amico Woody Allen ah però ho capito ma Woody Allen è nato 88 anni fa no Chiara un po' molto meno e Lele non tanto meno ma insomma un po' meno anche lui e poi grande Salvatore Schillacci che ha salvato una stagione oltre che per meriti sportivi eccetera ha salvato una stagione di Pichino Express sì facendo il pazzo grande grande Totò no tu non l'hai visto Italia 90 no eh no con gli occhi spiritati che no non c'è non c'è non c'è non è difficile capire l'Italia 90 era nel 90 tu sei nato nel certo 99 quindi non c'eri capito ma c'eri neanche a Francia 98 eh no però vi motivi no mamma mia cioè nel senso che non ci fossi ah le olimpiadi di Los Angeles 84 va bene mi entra in testa che tu non abbia vissuto i mondiali dei mondiali di Francia usa 94 ma no se sono nato nel 99 come faccio il famoso rigore di Baggio ho capito l'ho visto dopo potevo vederlo prima mamma mia che brutta di vedere dopo l'ho visto cioè cos'hai vissuto tu poi niente ho vinto un mondiale no ma ho capito vabbè mondiale un europeo ah sì poi cos'è che è successo no ma io non so le vittorie sono quelle che segnalano la vita cioè io non ho visto vincere un mondiale fino al 2006 capisci 26 anni in attesa cioè no eri nato nel 82 sì capito ma me lo ricordo non me lo ricordo avevo due anni in realtà è un vago ricordo di una roba che tipo tutti facevano casino però non so se era un ricordo indotto oppure ero a Pietraligure quello sono sicuro sì perché era il giorno prima del mio compleanno quindi l'estate sì 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 poi oggi è la giornata mondiale contro l'AIDS giusto ricordiamolo sempre se sì primo dicembre giornata in attesa contro l'AIDS mi raccomando state ci sono tantissime iniziative a Milano con tutte le varie sigle delle varie associazioni non sto allenando perché poi sicuramente me ne dimentico qualcuna però sono veramente tante associazioni che a Milano fanno molto ci sono anche screening gratuiti fanno veramente tantissime cose il Comune ha costituito il Comune ha costituito un nuovo coordinamento cittadino fast track attraverso un avviso pubblico aperto agli enti del terzo settore attivi sulle tematiche della riduzione dell'HIV dell'HIV e delle altre infezioni sessualmente trasmissibili inoltre se si riesce a sostenere la ricerca in questo campo davvero siamo a un passo come dire cioè veramente abbiamo fatto tantissimi passi avanti dagli anni 90 soprattutto ad oggi vivere con questo male ormai è possibile per fortuna anzi bisogna combattere lo stigma che è ancora legato all'HIV e all'EDS ma serve ancora tanta ricerca perché davvero manca poco per riuscire a forse non voglio dire debellare del tutto il male perché insomma non è così semplice ma a capirne sempre di più e a riuscire sempre di più a dare una vita decente a tutti quanti quindi insomma è veramente importante pensate davvero quanti passi avanti si sono fatti insomma nelle terapie con le retrovirali e tutto dagli anni 90 ad oggi detta brutalmente è una malattia che si scopriva da avere l'eri morti un dead man walking adesso invece per fortuna si può veramente vivere e anche vivere una vita bella e dignitosa come dire quindi insomma aiutiamo anche la ricerca se decolliamo prima di decollare comunque se decolliamo prima di decollare non lo so non ho capito cosa diceva sinceramente non lo so erano delle parole a casa che ho sentito cantare da Gali bella comunque bravo anche perché ricordiamo che oggi il traffico è stato sconvolto da luce vera sì vabbè lasciatemi stare lasciatemi stare ricordiamoci anche quante cose tu non hai visto nella tua vita solo perché sei nato nel 99 ad esempio ci dicono al 33178535555 ma come non hai visto i funerali di Diana è vero o no perché è questo perché vabbè c'è fuori la stagione di The Crown e quindi vabbè ma neanche quelli di Saragat se per questo cioè cosa vuol dire cosa vuol dire un po' di tutti io ho vissuto i funerali di Berlinguer ma devo dire che non me li ricordo effettivamente no non me li ricordo comunque vabbè ma perché parliamo di cose che hai visto o non hai visto cose così perché c'è qualcuno che da questa settimana emizza la rubrica con gli eventi della settimana a cui lei non andrebbe buongiorno a Deriby buongiorno a tutti e bentrovati nuovamente che cosa strana sentire essere qua la mattina eh sì sì Deriby abituata alla presenza in Trenmi la sera questa stagione invece l'abbiamo rubata e l'abbiamo inserita qui nel palinsesto della mattina ma soprattutto ovviamente oggi era il giorno giusto per iniziare questa rubrica che tutti i venerdì sarà qui con noi allora posso fare la mia seguitina gli eventi della settimana a cui io Eri Bino andrei questa è la settimana top cioè inizia con la settimana top perché su Milano ci sono tantissime cose nella settimana che porta a Sant'Ambrogio ma iniziamo un po' prima vi va bene? Va bene Allora la prima cosa che vi vorrei far notare è che intanto da oggi fino al 6 dicembre tornano i mercatini in piazza del Duomo oh ne avevamo proprio la mancanza vero? Piero di gente fino al 6 dicembre c'è un motivo perché sono fino al 6 dicembre perché l'altro evento a cui io sicuramente non andrò è l'accensione dell'albero di Natale cioè ma una volta soltanto mi è capitato di guardare la diretta streaming credo del nostro amico Andrea Kerchi tra l'altro e ho detto ma questa gente innanzitutto è alle 17 cioè alle 17 la gente sta ancora lavorando in Duomo evidentemente non quelli che vanno in Duomo ma perché c'è andate perché c'è andate siete mai andate all'accensione di un albero in Duomo? mai no però mi sarebbe piaciuto devo dire la verità vabbè comunque divertitevi tantissimo per chi ci vorrà andare mercoledì 6 dicembre 17 c'è l'accensione dell'albero di Natale chissà se sarà uno spelacchio o sarà un bel albero questo ce lo chiediamo un po' tutti da quello che ho visto mi sembra un bel albero bello alto soprattutto di Fondazione Giochi Olimpici Fondazione Milano Cortina 2026 poi cambio per un attimo l'argomento l'argomento è che questo weekend cioè domenica 3 dicembre c'è la prima edizione della Straminano sotto zero mi fa ridere perché innanzitutto la Straminano è una cosa che fai d'estate di primavera 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 c'era la necessità di fare quella sotto zero mi piace la domanda è sempre se c'è necessità di fare qualcosa però allora intanto costa 16 euro che con i tempi che corrono non è che proprio cosa ti daranno una sacchetta e due gadget è la stessa sacchetta è la stessa modalità penso proprio di sì penso in invernale sarà di pile i bruletti allora hanno cambiato nell'arco di questa settimana l'orario delle due manifestazioni perché ovviamente c'è una 10 chilometri competitiva e poi c'è la 5 e 10 ci vanno tutti spero non ci vada nessuno ma fa niente spero non ci vada nessuno come doveva essere quella competitiva alle 9 e mezza l'hanno fatta alle 10 e mezza e invece l'altra alle 11 e mezza apro e chiudo parentesi ma se si chiama Straminano sotto zero alle 11 e mezza che zero vuoi che ci sia è un simbolismo dai potevano chiamarla Straminano di Natale Straminano di Dicembre Straminano sotto zero Straminano sotto il frecce io critico anche i nomi poi voi fate quello che volete se volete andate andate divertitevi correte non vi fate male basta tanto si corre sempre nel weekend a Milano per un motivo o per l'altro esatto esatto e poi vabbè che cosa c'è il re degli eventi lo lascio per ultimo perché poi io poi siamo un po' saccagnare ma allora tra il 7 e il 10 dicembre c'è la fiera degli Obey Obey ok tu sei del 1999 non ti ricordi molto probabilmente a Pielo a Pielo dove veniva fatta prima la fiera no la fiera degli Obey Obey veniva fatta intorno alla chiesa dei milanesi cioè a Sant'Ambrogio ok c'è la cattolica quindi veniva fatto tutto quel quartiere c'erano delle zone diciamo legali dove c'era la manifattura insomma artigianale e c'erano delle zone dove la gente vendeva quello che c'era c'era in casa c'erano gli alternativi c'erano gli alternativi esatto ma esiste ancora in realtà la fiera degli alternativi l'alter Obey l'alter Obey esatto e quindi io che ho vissuto tantissimo la fiera degli Obey Obey a Sant'Ambrogio per mia scelta personale la fiera intorno al castello Sorcesco non la vado a vedere un po' perché ci sono sempre le stesse bancarelle che c'erano le stesse anche quando c'era l'area sì dell'area mortale e poi c'è troppa gente che mi spiace da dire viene giù con la piena cioè nel senso non è più tanto la festa dei milanesi ma è la festa di quelli che vengono a Milano a fare shopping scusa puoi spiegare questo viene giù con la piena perché non l'ha capita non mi vogliate male cari amici di Cristal Radio però insomma un po' di cattiveria ogni tanto ci sta possiamo spiegare bene questo viene giù con la piena perché tu sei cresciuta sui navigli io sono cresciuta nata e cresciuta a Milano vabbè sono cresciuta sui navigli adesso vivo a San Siro fate conto che vabbè ma come ma scusa ma infatti però vien giù con la piena è per indicare tutti quelli che vengono che vengono da fuori vengono da fuori però vi si vuole bene lo stesso con la piena del naviglio capito vi si vuole bene lo stesso anche perché siete quelli che molto probabilmente fate girare per bene l'economia dentro questa città cosa che noi molto molto probabile e poi allora ce n'è un'altra in realtà che sabato 12 scusa sabato 2 al BIM cioè dove Bicocca incontra Milano si chiama così in via Polvani dalle 11 alle 21 cioè il BIM Christmas Market adesso inizierà guarda come si è illuminato mesieri io infatti voglio capire da una persona che va a queste cose cosa ti aspetti di vedere e di comprare io mi sono illuminato perché adesso sogno l'apertura del BUM e abbiamo il BIM il BUM e il BAM bravo bravo ti ho servito bene il BUM il BUM c'è una catena che fa panini il BUM però con la N finale andiamo a chiederti se posso aggiungere una M vabbè adesso faccio l'ultimo evento poi ti faccio una domanda l'evento RE per cui ho iniziato forse a fare questo tipo di rubrica insieme chiaramente al fuorisalone che detesto da sempre è dal 2 al 10 di dicembre c'è l'artigiano in fiera gratis sottolineano però c'è la registrazione online io immagino tutte quelle nonnine che ci vogliono andare non si possono registrare vabbè dalle 10 alle 22 e 30 tutti i giorni che cosa c'è andate a fare amici cosa andate a fare me lo dici tu prendo l'atmosfera natalizia che in altri posti non riesco a prendere adesso ma no dai dai ma l'atmosfera natalizia c'è la casa tua con il tuo calendario dell'avvento non c'è necessità di andare lì con tutta la gente fa caldo il giubbotto il giubbotto fastidiosissimo la registrazione fastidiosissima però sacco di gente però c'è sempre ma vai a mangiare si ma mangio tantissimo ma vai soltanto per mangiare io vado una volta per mangiare quindi è una fiera culinaria io vado una volta per mangiare una volta per fare i regali ci vuoi più di una volta quando vado per fare i regali poi va a finire che comunque mangio no no e non faccio niente allora adesso ti do un compito ci andrai tanto questa settimana per favore dimmi la cosa più brutta che vedi se vuoi ce l'ho già no non lo sai quest'anno se ci sarà magari quest'anno aumenta più o meno che cos'è a me le sculture di legno africane non piacciono perché sono belle in Africa sono belle tra piantate in mezzo agli stand da più artigianato sono un po' fuori contesto le maschere diciamo disse quella che so che casa ha tre o quattro dipinte africane però comunque le fa niente no bellissimi bellissimi però me lo fanno impazzire va bene e questi sono stati i miei eventi a cui io non andrò sempre il consiglio è sempre lo stesso questi sono quelli dove io non andrò voi andate fate tutto quello che volete divertite ricensite fate quello che volete divertitevi ma io non ci sarò e allora noi ci sentiamo invece venerdì prossimo con Eri B anzi no venerdì no perché è festa forse vieni giovedì a farci un'incursione magari anticipo ok va bene invece andiamo avanti con la musica Elodie affari spenti Elodie affari spenti 7.42 minuti anzi 43 in questo istante ringraziamo ancora Eri B per i suoi consigli di cosa non fare però vabbè poi capite voi il gioco qual è nel senso se vi offendete se siete uno di quelli che vi offendete non avete capito il gioco assolutamente però anche se non siete d'accordo comunque vi fa scoprire delle belle iniziative perché io non ho non sapevo della stra Milano invernale prima sotto zero sotto zero fino a che Eri Bino me l'ha detto il che vuol dire che magari non c'è stata una campagna pubblicitaria massiccia visto che noi tutti i giorni siamo qua o forse comincio a dire nonostante la campagna massiccia c'è troppa roba assolutamente noi facciamo fatica o non leggiamo i giornali tutti i giorni io la metà delle cose che succedono non le so poi alla fine però comunque è veramente complicato e voi invece cosa fate a che eventi andrete dai 3-3-1 7-8 5-3 5-5-5 pro contro fiori artigianato pro contro Christmas Village General Village perché ci sono tanti andiamo con il plurale e poi pro contro Corse Corse Vali Corse Vali è inutile che lo scrivete sappiamo tutti che siete conti ma non è vero se continuano a farle vuol dire che continuano ad andarci gente che tra parentesi attenzione perché la corsa è giù cioè fa bene ma è pericolosa nel senso che davvero no non sto scherzando lo dico con tutti i ortopedici cioè dateci piano non è una roba che ah domani voglio dimagrire e comincio a correre no state attenti quando andavo in palestra mille anni fa quotidianamente cioè tu non hai vissuto USA 94 ma sei andato in palestra ma questo vuole che c'è quotidianamente quando facevo la mia camminata in salita sul tapirulanti sentivo due vecchi di fianco due vecchi due signori anziani che dicevano però oggi c'è bel tempo no che dicevano eh ma correre sul tapirulanti rovina la postura eh bisogna correre al parco tutti i giorni hai capito scusa domanda ma perché erano in palestra di Astaromeno al parco perché ci sono i corsi ah ok facevano il corso di pilates comunque sapete se io vorrei ricordare che oggi è venerdì quindi saluto tutti il corso di acqua gym che a cui stasera vado ricordiamo no 24 donne e io quindi è sempre così tutto molto bello e con anche quando c'è l'insegnante che nella nella mischia chi guarda sempre me è beh chiaro perché sono l'unico abbastanza riconoscibile sono l'unico con la barba quindi insomma e mi guarda sempre a me io cerco di nascondermi dietro alle mie compagne di corso ma no non c'è modo dopodiché è difficilissimo fare acqua gym l'avrò fatta tipo una volta a Montesilvano in mare ma è basta poi in mare deve essere ancora peggio c'ho le onde che ti sbattono di qua di là a Montesilvano devi andare fino alla Croazia per fare acqua gym senza toccare se ti iscrivi all'acqua gym di Spalato se sei a Montesilvano ok chiaro comunque ieri comune di Milano tweet tweet no x x hanno xato xato ragazzi sì adesso allora la mia social media Cristina mi ha detto che se provo a dire ancora un altro xare mi dà una testata però fa schifo però dite la Micheline dice ad esempio xate dice quando dice forse perché anche x factor x xate sto pensando è che sia tutto è tutto un complotto c'è Fedez anche dietro al cambio di twitter con x no saluto a Fedez che ieri è stato molto affabile nel rispondere a Morgan durante la trasmissione andate a vedervi pezzo ho letto qualcosa ho letto qualcosa tweet del comune di Milano sono stati segnalati questi foglietti lasciati sul parabrezza di auto in sosta letto letto spiega 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 la polizia locale avvisa i cittadini che si tratta di truffa punti esclamativi con l'emoji non seguire le indicazioni attenzione sembrano delle vere multe esatto cioè non ne vedo ma nelle multe moderne con un QR code c'è il logo del comune di Milano c'è un QR code se andate sul sito che sembra che state pagando la multa ed è un raggiro ed è un raggiro l'unica cosa che può cioè no prima di tutto vabbè se vi succede io forse farei una telefonatina ai vigili giusto per capire è abbastanza strano perché non è la classica multa scritta a mano comunque andate a vedere sul profilo twitter del comune di Milano che mette la foto della multa incriminata poi chiaramente non ci vorrà niente a ricambiare il foto funziona come truffa perché in realtà poi l'avevo letto sul giornale ieri che ad Abbiate Grasso era già successo la corsa estate quindi ci sono delle piccole avvisaglie che potrebbero aiutarvi tipo mi sembra che c'è scritto che se la paghi entro 5 giorni è veramente bassa cioè non so come dire entro 5 giorni c'è il 50% quella è normale come quelle multe vere quella normale è 25 euro che invece mi sembra che tipo per direttore di sosta sia un po' di più dovete riguardare quella mi sembra che sia 36 euro quella per direttore di sosta normale quindi vai non so però state attenti se beccate un vigile invece di insultarlo subito chiedete se è giusta poi va vero io dopo di che ragazzi se vi do una multa per direttore di sosta c'è poco anche nel cazzarsi e poi ricordiamoci che se siete iscritti al fascicolo del cittadino giusto gli arrivano automaticamente adesso mettono sempre meno bigliettini fuori i vigili quindi mi raccomando iscrivetevi al fascicolo del cittadino e amministrazione per favore rendiamo migliore accessibile sempre più questa app che l'idea l'idea l'app andrebbe un attimino sistemata così giusto per essere tranquilli invece adesso andiamo a ascoltarci Ernia con ferma a guardare insieme ai pinguini tattici e te ne vai no siamo qua perché te ne vai no siamo qua siamo qua non ci andiamo da nessuna parte questi erano Ernia insieme ai pinguini tattici con ferma a guardare dal 2021 noi stiamo per andare in pausa fra poco ci sarà il GR con tutte le notizie di stampo nazionale e poi torniamo internazionale giusto dimentico sempre che c'è un mondo fuori da Milano e poi torniamo noi invece qui no con ci sono un po' di cose che dopo devi leggere un po' di notizie un po' di iniziative un po' se volete ho anche una notizia su un prolungamento di una metro che non è l'M1 l'M4 l'M4 come prolungamento è più vicino l'arrivo della linea M4 quindi prolungamento di un qualcosa che non è ancora ok infatti no no perché è dall'altra parte ma come dall'altra parte fino a Segrate se fanno il prolungamento a Segrate non fanno a Bucinasco qua scopre un casino io ve lo dico dal comune di Milano ok al piano di fattibilità per la M4 a Segrate costo stimato 470 milioni di euro 120 milioni stanziati di extra costi ma poi Segrate ma no vabbè l'approvazione necessaria per l'inserimento dell'intervento nel piano triennale ci sono delle cose burocratiche poi non ditemi poi non ditemi che non c'è una periferia di Siriana periferia di Siria B cioè di là l'aeroporto la M4 prolungata la M2 che va praticamente fino ai confini dell'Austria e invece giù di qua niente niente poi io non sono dei Bucinasco ma ne posso fregare di me però nel senso lo dico per quelli di Bucinasco ricordando che è una lotta che c'è da tempo anche perché il deposito dell'M4 praticamente è non nel territorio di Bucinasco quello no ma proprio sul confine col territorio di Bucinasco quindi gli hanno deturpato anche una bella area che prima erano campi agricoli verbi invece adesso sono un bel capannone in cui andare a mettere a dormire i nostri treni della M4 e queste erano le Spy Girl con Viva Forever ho un bellissimo ricordo di questa canzone io l'ho sentita dal vivo non l'avevo mai sentita io l'avevo sentita dal vivo in un teatro di Birmingham nel 1998 con io mi ricordo il principe Carlo lì con noi però non mi ricordo se fosse un anno dopo era una situazione istituzionale sì sì però mi ricordo che c'era sì secondo me c'era il principe Carlo sto pensando che era praticamente poco dopo quasi un annetto dopo la morte poco meno di un annetto dopo la morte di Diana però sì credo che la corona effettivamente non è che stesse così attento a non mandare in giro il principe Carlo perché tanto erano già divorziati e tutto mi fregava niente ahimè e quindi c'era il principe Carlo c'era Romano Prodi con noi non ho visto se cantasse proprio meglio le Spy Girl posso dire che c'era Eric Clinton con la figlia presa benissimo invece non me lo ricordo è stata una cosa interessante il G8 rappresentante degli studenti una cosa del genere con il 4 in inglese la cosa divertente era quella intanto è una foto in cui stringi la mano è vero in cui parlo non stringo la mano in cui parlo no parlo no la foto me l'hanno fatta quando sto parlando con una compiaciuta ombretta colli che ci guarda dietro come dire che lì è il mefio da Milano che lì era presidente della provincia e eravate a Birmingham ah ok a Birmingham nella major house di Birmingham bella esperienza beh immagino immagino mi ero innamorato di una francese non fatico a crederlo si chiamava Lor no che era Laura e io gli scrivo i bigliettini e gli ho detto è l'apostrofo Or che vuol dire Lor romantico tutto questo in meno di una settimana capisco cinque giorni non ci sia stata immagino no comunque a proposito di Hillary Clinton scusa prendo usufruisco di questo spazio per sponsorizzare una cosa nel giorno in cui cioè nelle settimane in cui tutti parlano di un'altra Hillary per un'altra serie e non diciamo nient'altro andate a recuperare quattro puntate di una serie su Sky se riuscite che si chiamano Hillary sono quattro puntate sulla vita di Hillary Clinton è incredibile ci sono dei video stupendi in cui lei scopre che quello stato è passato a Trump sapete benissimo che nelle elezioni era ultra favorita la Clinton nello stanzino in cui seguivano le cose e poi si scopre che sostanzialmente non c'è la mia foto con lei adesso chiederò perché e poi grande grande esempio di empowerment femminile non so come dire perché alla fine era il governatore di non mi ricordo che stato Bill Clinton però era lei che faceva politica da una vita eccetera mi spiace un po' perché è stata un po' suclassata dalla figura di Michelle Obama che è ovviamente molto più carismatica diciamoci anche molto più simpatica al pubblico lei era molto invece un politico di quelli di vecchia maniera in un certo senso però ha una storia bellissima alle spalle molto radicale si 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 molto radicale e molto infatti poi gli rinfacciano questo dell'essere invece diventata molto più più blanda ed essere ormai parte dell'establishment però è sempre complicato capire veramente quanto si può realmente essere radicali quando si arriva a certi luoghi di potere o quanto invece a quel punto che sei in quei luoghi di potere te ne farei più niente e sei tu stesso a dire ma sai che c'è mogo so qua mi metto tranquillo e cerco di mantenermi qui è sempre molto complicato capire dove sta la verità in queste cose quindi recuperatolo perché merita veramente quelle due orette mi è spiaciuto poi vabbè per la sua storia la finita storia con Totti quello mi spiace no 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 non è la stessa mi sa che ha guardato l'atto quello di cui parla tutti siamo entrati dentro i due documentari si sono un po' cross platform comunque riprendiamo un attimino con la rassegna stampa perché in un altro articolo sul giorno Milano si leggono precisamente quali sono le cose che vi possono far pensare che sia una truffa quel bigliettino innanzitutto dovete scrivere il numero della targa a penna quindi vabbè e poi se scannerizzate il QR code non lo fate comunque se lo scannerizzate il dominio del sito è ucraino ah beh non male quindi diciamo che se state leggermente attenti potete accorgermi a me non male esatto abbiamo paura di gente che magari poi adesso non si metta a pagare le multe vere perché ha paura che siano quelle della truffa no no quindi insomma poi purtroppo dobbiamo riportare la denuncia dell'osservatorio antisemitismo della fondazione centro di documentazione ebraica contemporanea di Milano perché sono comparsa le scritte antisemite sul murale salbinario 21 sui muri appunto del memoriale della Shoah di Milano sopra i murales che avevano per oggetto i Simpson si 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 fatte dall'artista Alexandro Palombo si Palombo si io sono sconvolto purtroppo ci tocca sono sconvolto che ancora nel 2003 ci siano questi imbecilli e soprattutto però mi viene a dire non additiamoli solo come imbecilli c'è una parola ben precisa si chiama fascismo e quindi non facciamo finta di dire ma no rigurgiti fascisti e ahimè sono anche questi i rigurgiti fascisti ci sono poi magari sono solo spinti da gente che è stupida e imbecille basta di fatto che comunque portano a quella roba lì quindi attenzione sempre a non abbassare troppo la guardia che non vuol dire allora allora c'è tutti i comunisti no non c'entra assolutamente niente è tutta un'altra storia tutte le dittature sono una merda diciamolo scusate così come l'ho detto però noi abbiamo vissuto quella sappiamo cosa vuol dire aver vissuto quella lì e sappiamo anche cosa vuol dire non volerla più rivivere e questi sono i maneskin con Honey are you coming comunque allora torniamo un attimo sul tema del prolungamento dell'M4 ho avuto la possibilità di sentire poco fa il sindaco Rino Pruiti sindaco di Bucinasco che non l'ha presa molto bene come dire è un po' su piedi di guerra dice qui sembra proprio che Milano non voglia il prolungacci la metropolitana verso Bucinasco la cosa che dice che però fa ridere ed è ridicola lo giungo io non l'ho detto ridere la cosa che fa riflettere io dico invece che è ridicola è che a Bucinasco l'M4 ci arriva già con il deposito perché il deposito allora prendo due secondi per parlarvi di cosa funziona l'M4 l'M4 arriva in piazza Tirana alla stazione dei treni di San Cristoforo lì c'è il capolinea ovviamente avete visto tutte le metropolitane quando c'è il capolinea non è che c'è un muro di sbaramento e il treno va a sbattere lì no c'è poi un binario molto lungo che va oltre il capolinea perché poi c'è o il deposito o lo scambio per tornare indietro tipo che a San Siro non c'è il deposito ma ci sono degli scambi per far tornare indietro il treno e parliamo di 300-400-500 metri anche a volte qui si va molto più in là perché c'è il deposito ma il deposito non ci stava perché c'è il naviglio e perché ci sono le case e perché c'è una stazione del treno allora cosa hanno fatto? passa sotto il naviglio la metropolitana 4 va dall'altra parte del naviglio passa nel territorio di Bucinasco supera in realtà il confine perché poi di nuovo ritorna a essere Milano e in un appezzamento di terra proprio al confine con Bucinasco è stato costruito il grandissimo deposito che tutta la comunità di Bucinasco ma anche dei comuni inimitri perché comunque anche Crossio così spingeva per dire ma fateci una fermata lì niente non si può fare una fermata dentro di un deposito lo dice una legge non si sa quale sta di fatto che quindi la metropolitana 4 a Bucinasco arriva ma non si può usare fondamentalmente questa in soldoni e invece il prolungamento verso Segrate verrà fatto e secondo il sindaco di Bucinasco dice sarà perché di qua ci abbiamo il deposito e non possiamo allungarla non vogliono allungarla nonostante arrivi qua sarà che di là invece spediamo più di 350 milioni di euro per fare questo prolungamento anzi stamattina dicevano molto di più ci sono gli extra costi infatti se adesso abbiamo già oltre 400 milioni di euro però a Segrate arriverà un grande cento commerciale e quindi forse è per quello che viene fatto quel prolungamento adesso vedremo cercheremo di avere in collegamento magari nei prossimi giorni qui con noi il sindaco Pruiti perfetto sì sì è una vicenda che ti dico la verità io non ero a conoscenza appunto di questa vicenda perché posso dire si parla sempre di prolungamenti di altre linee non avevo mai sentito dell'M4 che tra l'altro stiamo parlando di un prolungamento di una metro che non è ancora finita ma infatti è quello che fa arrabbiare il sindaco Pruiti i cittadini in Bucinasco e un po' anche tutta la parte sud ovest della città non è ancora finita stai facendo un deposito ti chiedono cioè in corso di variante lo puoi fare puoi trovare una soluzione ma soprattutto quello che fa l'idea è che costa tantissimo aver fatto il deposito lì e spendere tutti quei soldi solo per un deposito era veramente assurda come situazione in più fa anche una curva per cui è difficile poi farla rigirare verso il coso quelle cose che tu dici ma perché perché mettiamoci una pezza con una fermata almeno ma almeno ma poi soprattutto se ci sono dei cittadini io capisco che fare le cose e rendere felici tutti è impossibile è impossibile però mi viene anche da dire tra i due poli nel senso di là ci hanno l'inate ci hanno tra parentesi adesso non è che la verde di Cascina Gobba sia molto lontana da Segrata no è fatti nel senso è lì praticamente sei a un passo dal San Raffaele quindi insomma c'è il trenino che va anche al San Raffaele quello piccolino come dire non è di qua invece la parte sud potresti finalmente fare una congiunzione con le linee ferroviarie usare Corsico come snodo di niente invece zero cercheremo di capire dal sindaco di Bucinacco in giorni futuri sarebbe bello capire un giorno anche dal sindaco di Milano magari sarebbe sì tra le tante o dagli assessori alla mobilità o dagli assessori di Milano che non rispondono alle domande se non invece presenziare ai vari convegni che fanno ogni giorno nel giorno in cui tutti parlano dei 22 alberi di Natale che nei prossimi giorni si accenderanno nella nostra città che tutti parlano del Christmas Village di Tot Christmas Village di Totaltro eccetera c'è un'altra notizia che riguarda Capodanno perché per il quarto anno di fila non ci sarà il concertone in Piazza Duomo costa troppo e non è sicuro il comune leggo il giorno Milano ha rinunciato a cercare sponsor per l'evento musicale appunto il quarto anno consecutivo senza show gratuito sul Sagrato posso dire che la più grande possiamo dire che la più grande città d'Italia a livello economico non faccia una cosa del genere è assurdo tra parentesi secondo me con un altro grosso problema il concerto si porta gente e non è sicuro così dicono ma anche lasciare la piazza libera non è sicuro e no lo sappiamo benissimo anzi accendi un po' più di luci magari succede meno roba magari sì c'è qualche ubriaco in più ma riesci a gestirlo oltretutto ma anche lì un concerto costa troppo cerchiamo di fare una roba che io non capisco si sono fatti le leggi poi adesso si lamentano che le leggi non vanno bene che i regolamenti non vanno bene è questo che io sono sconvolto io penso che dopo la vicenda di Torino in Piazza San Carlo posso ricordare è una vicenda e quella vicenda però ci ha rotto le palle ve lo dico proprio terra terra io non posso più andare a un concerto perché qualche coglione a Torino ha fatto così no non se ne può più beh dice c'è il problema delle vie di fuga eccetera in una piazza forse che la piazza non sia il posto migliore una piazza chiusa come per esempio quella del Duomo che è relativamente chiusa è relativamente chiusa poi puoi gestirla meglio come dice se fai un palco più piccolo c'è più spazio ad esempio se non fai venire tutto per lo starlet internazionale a cantare se Fedez fa venire tutto un parterre nazionale a cantare è chiaro che ci sa ma poi vorrei capire perché su da quello di Fedez si può fare quello non è sicuro sì sarà sicuro quello di Fedez perché infatti si fa però tanto paga lui e invece questo qui no ma non capisci quello è quello di un'altra radio che non ci siamo sì infatti si possono fare io penso perché adesso c'è il famoso limite transennano tutto in maniera che in parti diverse in maniera che ci sono via di fughe diverse e in più ti bloccano non a ridosso delle transenne ma ancora più in via in corso Vittorio Emanuele praticamente al museo del novecento cioè non entri in piazza ecco chi trova su anche questo poi dopo di che c'è anche un problema forse nostro non siamo più capaci di vivere lo spazio pubblico ricordo effettivamente che non c'eri anche qui non c'eri tu karaoke e karaoke fu fatto in piazza del Duomo e furono fatte solo mi sembra due puntate invece di tutta la settimana perché non si riuscì a gestire la cosa ma anche lì invece di dire no impari dagli errori non capisco la sto facendo facile sicuramente la sto facendo facile e se ci fosse qui il nuovo prefetto mi piglia schiaffi perché dice ma Ranfi ma che cavolo stai dicendo però posso dire che insomma pretendiamo certe cose dai diciamo così U2 1 U2 con 1 sai perché si chiamano U2 si dai lo dico sempre a che fare con la guerra no a che fare con un violantino che mise buono fuori dalla classe sua le superiori perché cercava qualcun altro per fare musica e dice vieni anche tu U2 in inglese U2 dopo da lì aveva invitato questa cosa prego Masieri vada pensa non lo sapevo dopo aver consigliato l'intervista di ieri al prefetto uscente del comune di Milano Renato Saccone ai microfoni del Corriere della Sera Milano oggi segnalo il Corriere della Sera Milano consiglia qualcosa fatto da noi su Gommone Milano magari magari oggi consiglio stesso format ma a Franco Gabrielli ossia il commissario no sarebbe consulente al sindaco sulla sicurezza e la coesione sociale se non sbaglio una roba del genere che dice la ragazza salvata da McDonald's da Milano sapete che è stata salvata una ragazza da una possibile da una possibile violenza con il gesto delle quattro dita che si chiudono sul pugno dice modello di sicurezza partecipata il cittadino non può fare lo sbirro il super consulente chiamato dal sindaco Sala si legge nell'occhiello la richiesta dei cittadini è che la polizia locale vada in strada ci sono già 300 ghisa occupati in procura è un elemento che deve far riflettere non è che facciamo i sceriffi a fare questa roba continuate con quel segno e se vedete chiamate non intervenite chiamate che è meglio oppure cercate di creare una rete per cui si possa mettere al sicuro la persona che vi chiede aiuto non è fagli sceriffi è un po' diverso da fare le ronde modello di sicurezza partecipata non sono minimamente d'accordo con le ronde ecco con la roba lì no le ronde fanno paura modello di sicurezza partecipata sicuramente perché se tutti poi ci interessiamo magari è chiaro che si crea quella rete anzi ricordiamo che c'è il piano freddo adesso giusto che cercate il numero di telefono sui siti sulle varie pagine social del comune il piano freddo è sostanzialmente il piano per i senza tetto per l'emergenza chiaramente invernale in cui le temperature si abbassano in particolare durante la notte giusto sostanzialmente recuperate l'intervista perché è interessante anche perché fino al momento dopo aver detto Franco Gabrielli nominato super consulente eccetera dopo aver detto si tratta del commissariamento di Granelli e dopo aver detto inizia ora il suo coso a costo zero il suo mandato costo zero perché non è un mandato la sua collaborazione la sua collaborazione a costo zero io poi non ho più sentito no infatti ma come sempre polemiche inutili perché quando è stato nominato ricordiamo che c'è sempre chiaramente quando ci sono questi impieghi che poi non sono strettamente istituzionali non sono poi sulla carta sono consulenti eccetera vieni lì a dare una mano esatto si dice ma qual è il suo margine qual è il suo margine dove può operare cosa può fare ha soldi non c'è una legge che definisca questi margini questi confini anche perché se non ha soldi allora subito va lì e parla quello non lo sappiamo appunto è sempre un po' complicato capire come vengono gestiti questi tipi di incarichi appunto che poi incarichi non sono appunto non sono neanche retribuiti benvenga mi raccomando si cerchiamo la sicurezza partecipata forse può essere una buona risposta che non vuol dire fare gli sceriffi ma vuol dire appunto tenere gli occhi aperti e farsi darsi una mano per le piccole cose soprattutto tra noi cittadini si va avanti con la musica adesso è il momento di Salmo insieme a Shari con l'angelo caduto ok eccoci qua eccoci qua scusate venerdì primo dicembre 8.42 scusate toccavo ma non partiva il microfono mi spiace chiedo scusa colpa mia ma non è che toccavo perché toccavo il tasso sbagliato ma non lo dire no lo dico perché lo dico perché io sono molto fan e difensore della tecnologia che quasi mai sbaglia siamo noi che sbagliamo quando mi ha cancellato il testo non ho toccato niente non è vero hai schiacciato qualche parte qualcosa per cancellare non mi ha salvato il file no tu una volta hai detto le macchine non sbagliano le macchine non sbagliano no le macchine non sbagliano quasi male si deteriorano quello può essere non so tipo il microfono che davanti a me che questa mattina sta per salutarci anzi mi sa che con dicembre salutiamo il microfono e ne prendiamo uno nuovo però si deteriorano ma non sbaglia cioè si deteriorano è proprio colpa mia che gli sputo tutti i giorni addosso perché lo tratto male perché hai capito lui è poverino mi dispiacerà mi mancherai e poi soprattutto mi ricordo tu del buon fan della tecnologia hai detto che l'unico tatuaggio che nel caso in vita tua faresti mai è la mela della Apple pensate quanto sono scemo quanta gente ci avrà tatuata la mela della Apple più di quante pensiamo eh tantissima ne intendevo tantissimo più di quanti pensiamo sì 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 ma secondo me c'è qualsiasi cosa esista al mondo e anche non esiste qualcuno se l'hai tatuato addosso vabbè c'è qualcosa di inedito sicuramente no secondo me no secondo me non esiste niente no secondo me non esiste niente cioè mi sono venuti Spongebob ad esempio io conosco almeno tre persone che hanno Spongebob te conosci tre persone che hanno Spongebob che hanno Spongebob tatuato sì tu conosci tre persone nella tua cerchia io solo io conosco tre persone che hanno sono già tatuato pensa per non parlare non so c'è Guevara ce ne sono un miliardo e mezzo che ce l'hanno ma che ne so ma anche anche qualcun altro ma anche anche un operato il cupcake ma se no fatti ma anche il cupcake tantissima gente conosco che è il cupcake ancora e non parliamo i nomi di mamme i fratelli i figli i sorelle i mani la formula impronte io conosco chi ha tatuato la formula chimica del glucosio vedi perché ha fatto pasticceria con me è piaciuto molto e ha tatuato come se fossero diabetico molto molto guarda che c'è tutto tutto ormai non si inventa più niente nulla si crea nulla si distrugge intanto Corriere della Sera Milano ieri ci ricorda che adesso in corso Buenos Aires pedaleranno avanti e indietro dei vigili in bici contro la fosta selvaggia scusa questo pedaleranno avanti e indietro è l'occhiello di quelle della Sera Milano io avrei detto forse anche no non è vero però pedaleranno avanti e indietro appunto per la cicla di corso Buenos Aires il loro compito sarà dissuadere o dissuadere dissuadere gli automobilisti dall'intralciare la corsia riservata alle due ruote cosa che era successa se non sbaglio era stata annunciata anche per Viale Monza esatto una situazione che alcune strade soprattutto in Viale Monza è ormai fuori controllo mi pare infatti che qualche forse sì qualche settimana fa in occasione della della ciclabile umana si dice in Viale Monza ossia quell'iniziativa in cui i ciclisti si dispongono in fila indiana a difesa della linea che delimita la carreggiata per le auto e la ciclabile successivamente a quello si è parlato appunto di questa iniziativa anche su Viale Monza se non sbaglio vigile avanti e indietro ma no ma posso dire avanti e indietro è dispregiativo detto così però è letterale no 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 adesso mi sta arrabbiando è denotativo non mi ricordo qual è la differenza scusa denotativo e connotativo denotativo tipo fiume di parole e fiume vero è denotativo di movimento spazio al luogo letteralmente si tratta di una via che verrà presidiata dai vigili urbani in bicicletta anzi dalla polizia locale in bicicletta ma a me non piace chiamare la polizia locale perché se non me sono vigili urbani non dà più l'idea però fa niente però il titolo così pedaleranno avanti e indietro sembra due che vanno così al parco a vedere gli scoiattoli no assolutamente e c'è tra le righe no no voi che andate in giro con la macchina che inquinate questa città tra le virgole e tra le righe scrivete così disse quello che io mi sono fatto regalare una bicicletta per i 40 anni che non l'hai mai usato due volte due volte però è bellissima io c'ho pura di usarla però pura di dire che me la rubino cosa vuol dire ma che senso ha lo so non ha senso non ha senso ho rotto le balle per fammela regalare alla fine l'ho scelta io praticamente mi hanno regalato tutti gli amici per i 40 anni mi hanno regalato c'è anche tu no a me lo dici perché anche io mi sono scelto ti sei perso anche il mio quarantesimo quarantesimo scusa cioè nelle cose che ti sei perso nella tua vita hai perso anche il mio quarantesimo no non c'eri era dopo il 99 Fabio a meno che tu non abbia 60 anni comunque hai avuto una brutta vita non è che si può andare avanti hai avuto una brutta vita ma un sacco di cose non ho visto non ho visto il matrimonio c'eri il mio matrimonio c'eri no a meno quello te lo sei beccato ma non ho visto adesso non mi viene niente di importante che è successo tu l'ho detto due il mio quarantesimo e il mio matrimonio le torri gemelle non le ho viste le ho viste ma non avevo gli occhi cioè c'ero ma non avevo gli occhi te li hanno montati dopo no inteso non me li ricordo quello un po' come l'82 per me è quello va bene ci sta eh sì è troppo però appunto mi ricordo i mondiali del 2006 non hai visto Senn no che non l'ho visto Senn mamma mia non hai visto Michele Alboreto non so che posso dire va bene sei ignorante scusatemi ma niente hai visto cioè Boris Becker no ce l'ho in testa ma non l'hai visto mamma mia la pettinatura una brutta vita hai avuto cioè cosa hai fatto non ti sei annoiato nella tua vita beh intanto se il novecento si chiama secolo breve un motivo ci sarà quando arriveremo alla fine nel duemilecento sì sarà un secolo incredibilmente più breve immagino considerando che siamo nel ventitré ed è successo un po' di cose tra cui tendiamo spesso a dimenticare una pandemia infatti più che breve infatti è pieno il secolo pieno breve denota quella roba lì che ci sono state talmente tante cose che si è andato così veloce magari il secolo pieno effettivamente se ci pensi sono scelte tantissime cose che hanno proprio cambiato la connotazione della storia della vita le abitudini anche insomma le abitudini pensiamo banalmente alla diffusione della tecnologia adesso quello adesso dico chissà dove arriverà le auto voleranno tu non hai visto il primo iMac no 97 le auto voleranno non lo so però c'è una cosa fino ad adesso mi sono rifiutato di darla dai forse so che dove stai arrivando la questione dei taxi volanti gli eliporti taxuali hai solo 30 secondi vado a memoria dentro il 2026 un sacco di soldi due eliporti che dovrebbero andare da lì nate non mi ricordo dove non mi ricordo neanche dove alla fiera forse trasportando la gente volando la gente volando di taxi volanti dal rendering sono dei droni sono letteralmente delle capsule dei droni ciccioni sono un po' la Blade Runner e intanto ci scrive Alberto un saluto a Fabio Lorenzo e a tutti gli ascoltatori di Good Morning Milano buon weekend ciao Alberto ciao Alberto buon weekend andiamo con l'ultima canzone poi ci salutiamo sulla sigla siamo ancora qui ciao a tutti i ciao a tutti i